SIGLA Cos'è quella? Quella... è l'ombra. Sessanta minuti. E quanto è bastato per condurre l'umanità praticamente sull'orlo dell'estinzione. Ma l'uomo si è mobilitato. È nata una nuova era. L'era... delle grandi città predatrici. Chi è più veloce... sopravvive. Ehi, attento! Valentine... Forse per mia madre. Fermatela! Tom! Chiedigli perché ha ucciso mia madre. No! Peccato che te l'abbia detto. Ester Show non si fermerà finché non sarò morto. Se non la uccidi prima tu... Dovete trovarli! Salite! È molto tempo che ti stavo cercando. Tua madre... Lei aveva trovato qualcosa di pericoloso. Aveva paura di Valentine, di cosa potesse fare. Colui che controlla questo controlla il mondo. E diceva che tu sei in grado di fermarlo. Quell'arma può spazzare via la più grande delle città in un batter d'occhio. Non se la distruggiamo. Niente potrà mai opporsi a questo. Dobbiamo fermare Londra prima che ci distrugga. Sicura di volerlo fare. Una volta entrati non si torna indietro. Devo farlo. Sperare separati. Oltre è un'opportunità. Oltre è un'ottima di lavoro. È un'ottima di evoluardo. Ąvipare.